Allora perché ci sono tante persone che hanno questa posizione come dicevamo prima poco europeista, perché la sensazione che prima si stesse meglio, perché non c'erano dei tassi di disoccupazione come invece ci sono adesso, quindi il problema dell'occupazione e del lavoro è un problema centrale. Ingegneria Cornaglia, lei c'è una frase che le piace, che insomma ha chiesto di mettere in grafica, che noi infatti mettiamo in grafica ed è si lavora dove c'è lavoro, si lavora quando c'è lavoro si fa il lavoro che c'è, perché vuole sottolinearla? Secondo me è una frase che non è mia, devo dire, me l'ha passata ma mi è piaciuta molto, perché in tre righe sintetizza quello che è il mio pensiero, si lavora dove c'è lavoro, perché noi andiamo in Polonia, andiamo in Romania, andiamo in India, andiamo in altre parti, perché lì si consuma e qui non si consuma, quindi dobbiamo andare dove c'è del lavoro e dove possiamo fare dell'attività. Si lavora quando c'è del lavoro, i giovani oggi, e si fa il lavoro che c'è, sono due cose che dicono più o meno la stessa cosa, i giovani oggi pensano di trovare il lavoro sotto casa, è finito quel tempo, devono accettare di muoversi, devono accettare di spostarsi e devono accettare i lavori che ci sono. Cioè non si può dire, io voglio fare l'ingegnere, se non ci sono più posti per ingegnero voglio fare, no, la scuola ha un compito fondamentale, deve cominciare a guardare quali sono le esigenze del mercato, diciamo del lavoro futuro, perché se no creiamo tanti avvocati, tanti medici, tanti ingegneri che poi sono disoccupati, quindi i giovani devono pensare di poter accettare dei lavori che vengono offerti, se no rimarranno, non so se vi ricordate quella scena incredibile con la Fornero qui all'ufficio di collocamento di Torino, quando saluta due ragazzi che erano stravaccati su una sedia e non si sono neanche alzati, e dice voi cosa avete fatto? Noi abbiamo fatto la scuola alberghiera, e perché non trovate lavoro? Perché non vogliamo lavorare nei weekend. Allora se uno fa la scuola alberghiera e non vuole lavorare nei weekend è giusto che sia disoccupato. Quindi bisogna che i giovani capiscono esattamente che cosa vogliono fare. Per me quelle frasi sono un programma per un giovane di oggi. De Martino? No, non sono d'accordo. Non avevo dubbi. Non sono d'accordo anche perché per esempio ho due nipoti, una è andata a Londra e non trova lavoro nemmeno lì, l'altra si arrangiucca. Quindi si lavora dove c'è lavoro, le nipote si sono spostate e quindi diciamo hanno ottemperato questo pensiero. Quindi penso che il problema sia un po' più complesso. Ho un altro nipote che si arrangia tra un lavoro e l'altro, si adegua, fa quello che può, dopodiché però non ha nessuna stabilità. Secondo me i problemi sono più strutturali, nel senso che se si vuole creare occupazione forse c'è un problema che riguarda la ridistribuzione del reddito, che in questo paese è molto squilibrata verso l'alto e di conseguenza bisognerebbe per quella via incrementare i consumi. Non credo che lei aumenti i posti di lavoro e il rischio del reddito. Ma io invece penso proprio di sì. No, se adesso non aumenta i consumi non trova neanche un posto di lavoro. Se lei non dà una stabilità al lavoro non aumenta i posti di lavoro. Certamente che se, venendo alle cose che mi pare accennava prima il professore, probabilmente c'è un problema che riguarda la qualità dello sviluppo. Forse lì bisognerebbe concentrarsi e bisognerebbe in qualche modo inventare un'altra idea di sviluppo economico e di prodotti e nello stesso tempo anche redistribuire il lavoro che c'è e quindi incominciare a ragionare rispetto alla riduzione dell'orario di lavoro. Per esempio, perché in questa legge di stabilità non è stato in qualche modo agevolato l'utilizzo dei contratti di solidarietà? Poi, io che non faccio il tifoso per struttura mia mentale, certo critico l'Europa, però valuto anche che questo governo utilizza o dovrebbe utilizzare meglio i fondi europei che ci sono, perché lei prima ha elencato i costi che l'Europa comporta, eccetera. È vero, tutto vero, però a me risulta poi, vorrei essere smentito, che l'Europa comunque fornisce di capitali fortissimi anche lo Stato italiano e per finanziare... Bisogna vedere se ne otteniamo quanti... No, 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 qui c'è un problema, il problema è che i nostri governi non selezionano la spesa, la erogano a pioggia, ci sono fondi europei che dovrebbero essere, che sono erogati, ma questa legge di stabilità li eroga in maniera disordinata, non si scelgono le priorità, bisognerebbe, proprio entrando in una logica di diverso sviluppo, individuare i settori che possono lì creare dello sviluppo economico e da questo punto di vista creare occupazione. Questo discorso non si fa... Però insomma, il è...